L'avvocato Totò Incardona, il nuovo segretario dell'Udc di Gela, è stato letto ieri nel corso del congresso che si è tenuto nei locali dell'ex chesetta San Biagio. Presidente del partito è stata nominata Patrizia Comandatore. Fanno parte del direttivo il vice segretario Giovanni Giudice ed il vice presidente dell'Assemblea Giuseppe Anzaldi. Alle ultime elezioni amministrative l'Udc non c'era e ora ha voglia di riscatto, di ritornare prepotentemente sulla scena politica. Sono tanti gli obiettivi con cui noi ci proponiamo alla città. Io chiaramente sono orgoglioso che il partito a livello regionale abbia fatto il nome mio, un nome, come dicono loro, fresco, giovane e che abbia la capacità di riunire questo partito e di portarlo nuovamente al centro del lagone politico qui in città. L'Udc era tra virgolette scomparso, anche se poi in realtà non è mai scomparso, ma in questo periodo abbiamo studiato la situazione politica in città. Sappiamo tutti che la crisi politica sta attanagliando di gran lunga questo paese e noi appunto ci proponiamo innanzitutto con il dialogo alla gente. Ritorniamo a fare politica come un tempo, porta per porta, ascoltando le istanze della gente, ascoltando ciò che i cittadini vogliono e non facendo demagogia. La gente è stanca, la gente stufa di sentire solo ed esclusivamente frasi da demagoghi. Noi ci proponiamo, forse useremo dei metodi spiccioli, però ci proponiamo cercando di dire quello che sono i nostri progetti, progetti anche per cercare di inserirci in questa vertenza Gela quali sono proprio le nostre idee senza verità e senza nasconderci. La situazione è molto complessa oggi in città, troviamo un PD spaccato, si parla addirittura di contro congresso a giorni, troviamo una situazione all'interno del Movimento 5 Stelle che non è delle migliori. Chiaramente noi stiamo lavorando già da mesi all'unità di questo partito, grazie all'intervento dell'onorevole Micichetta e del segretario Bellina, sono stati intensi i giorni che hanno condotto questo congresso, chiaramente vorremmo dialogare con tutti. L'assessore regionale alla lavoro Gianluca Micichè. Oggi a Gela abbiamo, come dici, un elemento in più per dedicarci ai problemi della città e non alla politica politicante vecchia di vecchio stampo che ha creato questo disastro a Gela e non so. Ho il dovere e l'obbligo di collaborare con questa amministrazione se questa amministrazione lavora per i cittadini gelesi. Non ho motivo di pensare il contrario, al di là dell'appartenenza, per cui le collaborazioni e istituzioni sono dovute e sono di obbligo e stanno andando avanti. Al congresso di ieri erano presenti anche la segretaria provinciale Angelo Bellina, il commissario cittadino Gaetano Carluzzo ed il responsabile aria sud Luigi Pucci.